Sì, sicuramente era da tanto che aspettavo questo momento e al momento del gol mi sono emozionato. Una grande giornata, una vittoria che significa tanto per il Pescara, non solo per la classifica, per il morale, perché battere quella squadra che la vigilia di oggi era ancora in battuta è stato importante. Per lanciare un segnale, questo Pescara può competere con tutti gli avversari. Sì, sapevamo che il Benevento era una corazzata, non l'avevamo mai perso quest'anno, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto una grandissima partita e adesso dobbiamo dare testa alla Juve Stab che andiamo ad affrontare una squadra comunque forte su un campo difficile. Quindi per dire la nostra dobbiamo fare un grande risultato lì. Nelle scelte di Zauri finora sei stato spesso penalizzato. Quanto ti è stato difficile restare concentrato e poi sfogare tutta quella rabbia nel finale? Sì, è vero, fino ad ora ho giocato poco, sicuramente dovrò lavorare ancora di più per mettere in difficoltà il mister e far sì che giochi di più. Sicuramente non è facile giocare dei spezzoni di gara ogni tanto, io ce la metto tutta e spero di quanto prima di ritagliarmi il mio spazio. Il corsegnato oggi è importante per te perché ti dà fiducia, autostima in vista delle prossime gare, ma volendo fare un calcolo di percentuali, qual è la percentuale di preparazione in questo momento di maniera, se è il 60, 70, 80 per cento? No, io mi sento bene, ad oggi non ho soltanto neanche un allenamento, sicuramente mi manca un po' il ritmo partita perché da tanto che non gioco, però comunque sto bene e poi sta il mister, ecco, fare le sue scelte.